benvenuti a un'altra grande puntata di professionisti del calcio talk show il talk show che parla di calcio a 360 gradi sotto l'aspetto tecnico tattico e sotto l'aspetto atletico mentale oggi vi presento il nostro ospite che è Stefano Todeschini ciao Stefano buongiorno a tutti ciao Stefano è stato un calciatore di livello ha fatto tutte le giovanili nel Verona è stato nella rosa della prima squadra per un paio d'anni con con il Verona è passato poi a fare i professionisti è diventato capitano e bandiera del pavia un pavia che ha sfiorato la serie B un pavia che nella nella vecchia prima divisione ha sfiorato la serie B facendo per due anni consecutivi playoff terminata la carriera terminato la carriera molto giovane da calciatore è passato dall'altra parte sia dietro la scrivania che sul campo ma con la lavagnetta ha fatto l'allenatore ha fatto responsabile del settore giovanili settori giovanili direttantistici e anche professionistici nel fattispecie ancora pavia oggi si occupa della metodologia sul settore giovanile del pavia nell'attività di base se non sbaglio giusto perfetto si occupa di questo fa anche l'allenatore dei 2003 del sempre del pavia dopo anche una parentesi interessante che ha fatto al Milan come come allenatore questo è un po diciamo il tuo biglietto da visita che direi che non è poco non è poco comincio a farti una domanda che si fa di solito su chi è in grado come sei stato te di passare dalla carriera di calciatore alla carriera sia tecnica che dirigenziale io direi ancora di più tecnica per te sul campo o fuori dal campo perché questa un po la tua indole la tua più grossa capacità cosa si prova a passare dall'essere comandati e seguiti al dovere invece gestire come come è stato questo passaggio per te ma sicuramente il passaggio non è non è stato facile non è stato semplice perché comunque appunto come dicevi prima dovuto smettere abbastanza presto di giocare quindi la voglia di poter stare sul campo c'era era ancora tanta però insomma diciamo che quindi il passaggio non è non è stato molto semplice però mi sono adattato abbastanza velocemente devo dire che comunque cambia cambiano i punti di vista cambiano sicuramente le richieste però devo dire che comunque poi ho preso con molto entusiasmo il nuovo ruolo e quindi devo dire che a oggi sono molto soddisfatto della scelta che ho fatto nel calcio anche perché si vede questa cosa qua si vede quando uno è soddisfatto si vede quando uno cambia volentieri non tanto per cambiare perché alla domanda Stefano Todeschini è stato più bravo come calciatore o più bravo come come responsabile difficilmente si riesce a rispondere quindi questo penso sia una nota positiva questa cosa qua questo sì un bel complimento anche se comunque la strada è ancora lunga quindi speriamo speriamo di poter ottenere altri risultati altrettanto importanti parlando di risultati una cosa che non ho ancora detto che direi che non è secondaria nel tuo curriculum tu sei arrivato da responsabile del settore giovanile del pavia e dopo tre anni sei una delle tue squadre quindi gli allievi sono diventati campioni italiani di categoria quindi di lega pro il massimo titolo nazionale e ti volevo chiedere questo avendo fatto tre anni essendo arrivato quindi dopo una programma questo titolo dopo una programmazione qual è stato al momento del tuo insediamento la tua idea il tuo obiettivo che sicuramente non era andrò a vincere il titolo ma come hai deciso di programmare la crescita di alcuni gruppi e tutto il settore giovanile per arrivare poi a certi risultati ma diciamo che per me è stato importante soprattutto quando si lavora in alcune società dove magari anche di lega pro dove comunque i fondi ed investimenti sul settore giovanile non sono mai eccessivi per noi diventa a volte quello che è l'aspetto tecnico anche un responsabile credo che una delle capacità sia quella di gestire quelle che sono le risorse umane quindi per me diventava importante anche costruire un gruppo di lavoro che potesse lavorare insieme. Un progetto tecnico per me è sempre stato importante vederlo sotto tre aspetti fondamentali quello che deve essere secondo me deve essere trasversale deve essere compreso deve essere condiviso e quindi ho lavorato molto molto su questi aspetti con lo staff tecnico con i ragazzi e inizialmente devo essere sincero nel senso che non pensavo di poter arrivare ad ottenere questi risultati è normale che la parola tempo per noi è sempre stata fondamentale e quel tempo a noi è servito per costruire le cose della base e costruirle piano piano con calma senza avere fretta e questo ci ha portato dei risultati importanti quindi comunque l'aspetto di aver condiviso e aver lavorato con delle persone con un gruppo di lavoro che rimasse tutti dalla stessa parte secondo me è stato comunque un punto importante fondamentale che poi alla fine ci ha portato a questo successo che comunque non è magari di primaria importanza in un settore giovanile perché poi comunque non è importante vincere ma sicuramente è stato gratificante sia per noi che per i ragazzi rimane comunque un sinonimo di crescita partendo da un gruppo che era un gruppo già importante quindi se potesse ha potuto crescere molto di più questo gruppo e arrivare poi a un titolo un titolo nazionale perché sicuramente ottenere risultati subito non è non è facile quindi a noi appunto questo tempo è servito è un progetto tecnico per me a una durata minima di tre quattro anni e quindi devo dire che aver ottenuto questi risultati ci ha portato sicuramente ci ha fatto capire che eravamo sulla strada giusta con i ragazzi e con i giovani certo e hai parlato di questa condivisione quindi di questo progetto che deve essere capibile quindi capito di questo gruppo quindi si sente forte l'idea del gruppo come può essere in uno spogliatoio anche a livello di uno staff completo che potrebbe essere uno staff di una squadra o anche uno staff dirigenziale completo con i vari allenatori vado un po più sul pratico come come potevi passare come hai fatto a passare agli allenatori il tuo concetto la tua idea quindi andiamo proprio sul discorso riunioni se le facevi con che distanza perché noi vogliamo passare qualcosa a chi ha deciso di seguire il nostro il nostro talk show di professionisti vogliamo passare a qualsiasi livello qualcosa di pratico che rimanga quindi ti chiedo facevi delle riunioni con quanta distanza e di solito riunioni molte volte sono talmente ci sono talmente tante cose da dire che si va sempre a dire il niente passami questo termine invece come facevi a organizzare queste essere molto focalizzato su quello che era poi invece il tuo obiettivo da passare agli allenatori anche col tempo ho cambiato ho cambiato anche quello che era il mio sistema un po di di lavorare con con gli allenatori e posso dirti come come sto lavorando adesso noi facciamo riunioni incontri con quello staff tecnico diciamo ogni 15 giorni perché per noi diventa importante dar continuità anche a questo tipo di discorso perché secondo me ogni volta che noi ci troviamo e dedichiamo tempo questa cosa alimentiamo quello che stiamo facendo quindi diventa importante sicuramente appunto la continuità questo genere di incontri la condivisione cominciamo prima diventa importante quindi noi avevamo due strade da poter scegliere quella di e la mia poteva essere quella di raccogliere le volontà della società quindi capire cosa la società voleva prenderle e mandarle e darle dire 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 la società il pavia calcio in questo momento ha stabilito e ha deciso questo la strada invece per esperienza credo che migliore sia quella appunto di condividere quindi di scegliere l'idea era quella di creare una metodologia un metodo che potesse riconoscibile riconducibile a una scuola pavia calcio e quindi l'idea è stata quella di appunto di poter lavorare con gli allenatori per costruire insieme quello che potesse essere un progetto e che quindi loro potessero sentirsi partecipi a questa cosa quindi la prima cosa che ho fatto al primo incontro è stato quello di raccogliere e di fare un esercizio con i nostri allenatori per capire chi siamo e cosa vogliamo come vogliamo giocare e quindi mi hanno raccolto un po di idee di principi di quello che di quello che era l'idea dei nostri allenatori sul tipo di gioco e su quello poi abbiamo iniziato a lavorare secondo me era la strada migliore il modo migliore per poter condividere un qualcosa insieme quindi di non imporre un qualcosa perché diventa importante a questo punto non subire quello che si sta facendo perché poi il rischio è quello di perdere il potenziale della propria professionalità e quindi cercando di arrivare poco anche a ragazzi questo modo condividendo sentendo tutti i partecipi ci dà la possibilità di poter arrivare a ragazzi meglio e in un modo migliore ecco insomma perfetto qual è stata questa condivisione quindi quali sono stati gli obiettivi che poi alla fine penso essendo tu a capo al vertice di questa piramide devono essere sì condivisi ma sicuramente gestiti poi da te quindi tu devi essere pienamente convinto di questa condivisione quindi se per caso ci fosse stato qualche allenatore che sposava un altro tipo di progetto o non era magari l'allenatore giusto per quel gruppo lì e può capitare oppure condividendo anche questo allenatore si riportava nei canoni quali sono i tuoi canoni a livello di settore giovanile adesso stiamo parlando di tu stai facendo l'attività di base secondo me un passaggio fondamentale proprio quello dall'attività di base all'agonistica dove c'è un passaggio più netto di tante situazioni che sia a livello fisico che sia a livello tecnico tattico che sia a livello psicologico della crescita del bambino che diventa ragazzo quindi focalizziamo un po la categoria passaggi esordienti giovanissimi cosa chiedi te ma allora sicuramente ogni categoria a degli aspetti di obiettivi insomma un po diversi per l'obiettivo l'importante per noi era cercare di creare una progressione didattica perché noi vediamo il calcio un pochino come la scuola dove nella scuola c'è una progressione si parte mare da dall'insegnamento dell'alfabeto da arrivare a leggere così per noi anche nel calcio era importante dare degli obiettivi tecnici dove sicuramente devono avere la gradualità e ragazzi deve arrivare perché poi l'obiettivo ricordiamoci è quello di portare più giocatori possibili in prima squadra e quando arrivano in prima squadra devono sapere gestire un pallone quindi l'aspetto tecnico per noi diventa fondamentale e importante e quindi quello che noi chiediamo nel passaggio sicuramente cambiano cambiano anche i regolamenti perché comunque nei esordienti ci sono i tre tempi c'è l'obbligo di far giocare tutti almeno un tempo mentre i giovanissimi cominciano a cambiare cominciano a cambiare determinate cose cominciano a cambiare regolamenti non c'è più l'obbligo di far giocare tutti cominciano ad esserci delle sostituzioni e quindi comunque c'è un passaggio c'è un passaggio importante sul quale noi cerchiamo di valutare di prestare abbastanza attenzione sicuramente quello che noi chiediamo agli allenatori è quello è l'aspetto tecnico che diventa molto importante e quindi un lavoro costante costante tutti gli elementi tutti e tutti i giorni è normale che poi in quello che è stato la condivisione nostra è stata una condivisione di un gioco che potesse mettere appunto al centro il ragazzo per noi diventa importante che il ragazzo si diverta, si diverta con la palla e il sacrificio che lui mette per gli sforzi che lui mette per comunque anche quando ci troviamo in fase di possesso sia un divertimento sia una gioia ma perché quello gli permette di poter appunto lavorare appunto col pallone quindi noi la richiesta principale sicuramente è quella tecnica inizialmente ed è quella dove noi ci focalizziamo anche molto di più insomma Perfetto, quindi ho voluto focalizzarmi su alcune tue parole che mi sembra siano state parole chiave per te che sono tecnica, gioco e ancora condivisione come prima c'era la condivisione con gli allenatori adesso sono i ragazzi a dover condividere per riuscire poi a fare qualcosa quindi nel gioco divertimento questo nel calcio si usano tante volte la parola analitico, situazionale poi stiamo andando a dire un po' la stessa cosa quindi tu sei molto anche nelle categorie basse per quello che può essere situazionale perché poi il gioco è quello, i famosi giochi di situazione penso di aver interpretato e capito quello ti chiedo proprio un esempio di un obiettivo tecnico raggiunto col gioco un obiettivo che vuoi termine Allora partendo un attimino utilizzando anche le parole chiave che abbiamo detto prima sul discorso progetto tecnico per noi diventa importante che sia trasversale ma perché comunque nel calcio ci sono tante sfere che comunque lavorano insieme da quella atletica, da quella tecnica e quindi comunque da quella psicologica e quindi per noi diventa importante che queste aree siano unite, che lavorano insieme e quindi hanno bisogno di condividere il lavoro che viene fatto e poi altrimenti oltre essere condividito deve essere compreso e capito perché altrimenti il rischio è poi che non sappiamo quello che andiamo a fare Per quanto riguarda il concetto analitico situazionale devo essere sincero, per me è importante l'equilibrio delle cose io non sono uno, o meglio noi non lavoriamo su un aspetto piuttosto che l'altro è chiaro che per noi diventa importante cercare di ricreare il più possibile le situazioni di partita quindi diventa molto importante per noi l'obiettivo è quello di poter creare problemi ai ragazzi che devono risolvere poi le situazioni in campo le devono risolvere loro perché sono sempre diverse quindi non vogliamo lavorare per schemi o per idee comunque o strategie lavorare su strategie perché secondo me nel settore giovanile non è importante non è importante lavorare in funzione di come gioca l'avversario ma noi abbiamo i nostri obiettivi sicuramente da dover raggiungere beh, degli esempi chiari ti dico noi per quanto riguarda la struttura anche di allenamento noi lavoriamo sempre inizialmente su una prima parte dove diventa importante il miglioramento della tattica individuale tutti i concetti di tattica individuale, quindi il lavoro tecnico una seconda parte dove diventa secondo me importante lavorare su tutti quelli che sono i principi di tattica collettiva per poi dopo lavorare su partite a tema e quant'altro un esempio, noi abbiamo deciso nella nostra struttura nella nostra idealità di gioco è quella sicuramente di poter cercare di mantenere noi la palla perché comunque è la parte più bella e che piace anche più ai ragazzi il calcio mondiale dell'élite va in quella direzione quella di poter gestire la palla in qualsiasi zona di campo e quindi anche in fase di costruzione davanti alla nostra porta quando ci è possibile, ci è permesso l'idea è quella di giocare sempre è chiaro che per poter fare questo bisogna creare delle basi quindi il lavoro tecnico su ricezione, trasmissione, smarcamento diventano importanti quindi quando noi andiamo a lavorare nello specifico magari dove in un allenamento si va a lavorare su un concetto di costruzione la parte iniziale sicuramente è focalizzata sugli aspetti tecnici di ricezione, trasmissione, smarcamento questi sono quelli che servono comunque nel discorso di possesso palla e di costruzione per poi andare a lavorare direttamente sul situazionale quindi da un lavoro un pochino più analitico un lavoro un po' più situazionale ed è quello di ricostruire, di ricreare un pochino quelle che sono le situazioni di gioco quindi magari partendo da situazioni semplici che può essere prolungando le aree di rigore quindi magari da dietro con il portiere con due centrali e un play con magari due avversari quindi cercare di costruire utilizzando la superiorità numerica quindi il riconoscimento della superiorità numerica quindi ricercare e riconoscere perché poi sono due termini completamente diversi a volte si ricerca la superiorità ma non si riesce a riconoscere per poi dopo passare magari a inserire le due mezze e un avversario in più quindi passare a un 5 contro 3 poi magari aumentando allargando il campo inserendo anche gli esterni bassi quindi un'evoluzione una progressione di quello che può essere un concetto di costruzione fino a quando arrivare a schierare le squadre intere quindi andare a lavorare su un concetto del genere però diventa importante cercare di ricreare le situazioni di gara il più possibile è chiaro che per poter fare questo con gli allenatori noi ci siamo fissati dei concetti degli obiettivi e quindi sulla costruzione abbiamo lavorato ci siamo chiesti ci siamo detti quali sono i concetti importanti fondamentali e le richieste che per i nostri ragazzi non devono mai mancare in quelle esercitazioni e quindi siamo arrivati a delle conclusioni a quella ad esempio che l'importanza dell'utilizzo del portiere l'importanza dell'utilizzo dello spazio quindi dell'ampiezza piuttosto che magari il doversi aprire l'obiettivo quello di avanzare perché poi l'obiettivo della costruzione è avanzare magari in una zona di costruzione con l'obiettivo di aprirci per poi andare a giocare dentro al campo il concetto che se vogliamo andare avanti bisogna conoscere lo spazio dietro quindi comunque il discorso del concetto del sostegno e quindi su tutte queste basi poi dopo nascono le richieste per i nostri ragazzi Nella parentesi che posso vedere e aggiungere non hai parlato specificatamente di aspetto mentale ma tutto quello che hai detto rientra anche l'aspetto mentale hai parlato della conoscere e capire quando c'è superiorità numerica quando si può ottenere e di andare a insistere a farla questa superiorità il gioco del portiere piuttosto che l'andare in avanti sono tutti aspetti che partendo dall'analitico passando dal situazionale aumentando i giocatori danno anche una convinzione mentale ai ragazzi penso importante quindi la vecchia scuola calcia alla lunga che almeno la palla è più distante possibile dal portiere quindi non prendiamo gol perché la palla è distante penso che il mio senso sia stata sostituita dal tienila a te che almeno non prendiamo gol perché la palla ce l'hai te in maniera molto semplice certo perché il calcio comunque sta andando in quella direzione noi dobbiamo preparare appunto i nostri ragazzi ad arrivare in prima squadra che sanno appunto gestire un pallone diventa importante che conoscano anche questo tipo di calcio è normale che l'aspetto mentale poi è fondamentale perché rispetto a Marin in passato dove i difensori centrali all'epoca la palla più corta era 50 metri adesso per poter fare la difensione centrale ci vuole anche coraggio perché comunque andare a prendere palla prendersi la responsabilità di giocare un pallone davanti alla proprietà del rigore è anche una questione di coraggio da parte di un giocatore e quindi anche tutti quelli che sono gli aspetti emotivi che poi vanno a rientrare nelle esercitazioni i tecni che noi andiamo a fare diventano importanti però diventa importante non schematizzare tutto ma i ragazzi devono riconoscere e risolvere quelli che sono i problemi di gara noi gli diamo le basi gli diamo le conoscenze e poi dopo loro devono imparare a capire quelle che sono le situazioni in campo faccio un passo indietro vorrei rispondere io a una domanda che ti ho fatto all'inizio quindi mi autorispondo che è stato quello di quanto è difficile passare dal campo ad essere poi a gestire quindi la domanda iniziale e mi sto accorgendo nella nostra discussione in quello che ci stiamo dicendo in questo momento in questa puntata che la difficoltà grossa penso che sia riorganizzare delle idee che un calciatore ha perché se un calciatore ha avuto degli stimoli e li ha avuti quotidiani per anni conoscendo magari allenatori di livello so che anche tu hai avuto allenatori importanti quindi conoscendo allenatori importanti conoscendo come lavorano questi allenatori conoscendo compagni di squadra importanti che magari anche loro a loro volta sono diventati allenatori o magari sono ancora giocatori importanti e vivendo il campo uno per forza ha il calcio dentro la difficoltà grossa che tu hai superato secondo me se posso brillantemente è quella di prendere queste idee organizzarle e creare un piano di lavoro come se uno fosse un professore o un maestro elementare inizialmente un professore delle medie e delle superiori poi anche un professore universitario per dare questa progressione questa organizzazione perché tutto quello che dici riporta sempre la parola progressione organizzazione partiamo da qua per arrivare là quindi questo era lo rispondo rispondo alla domanda che mi sono fatto dicendo che ho notato in te questa cosa che è fortissima e quindi tu sei in grado anche di passare quando si diceva il sapere saper fare saper far fare quindi il passare il concetto che penso sia la cosa più difficile a livello del di qualsiasi campo ma nel mondo del calcio anche è troppo facile dire fai questa cosa che è semplice io la so fare e quindi la fai invece il renderla semplice davvero al ragazzo penso che sia la cosa più difficile sì anche perché poi io arrivavo non ho avuto non avevo quando ho smesso di giocare sicuramente esperienze di settore giovanile ed è chiaro che quando si arriva da 10 anni 15 anni di prima squadra che è un calcio completamente diverso calarsi nel settore giovanile è chiaro che il mio compito prima inizialmente è stato quello di capire come funzionava un settore giovanile e quindi per me non è stato facile non è stato facile le categorie erano tante gli obiettivi erano diversi e quindi gestire il tutto non è stato non è stato semplice non è stato semplice quindi sicuramente riorganizzare tutto quello che è il lavoro tecnico tutte quelle che sono le progressioni di dati tutto quanto non è è stato un lavoro comunque difficile però ho avuto la fortuna ripeto di avere un gruppo uno staff un gruppo di lavoro che comunque ha lavorato con me che mi ha aiutato molto e su questo devo dire che mi ha aiutato mi ha aiutato direi che ci sei riuscito alla grande hai avuto anche un'esperienza importante sul campo al Milan questo lo scorso anno parlaci un po' di questa esperienza e di quello che può averti lasciato nella tua progressione nella tua crescita perché comunque rimani ancora molto giovane l'hai detto te sei in continua progressione in continua crescita quanto questo ti ha segnato e ti ha lasciato tantissimo forse è stato posso dire l'anno più importante al di là della vittoria fatta che comunque rimane rimane dello scudetto delle categorie allievi però sicuramente questa è stata un'annata al Milan per me importantissima fondamentale perché mi ha dato tantissimo ho avuto la possibilità di potermi confrontare quotidianamente con professionisti veri quindi per me è stato veramente un grosso motivo di crescita ho imparato tantissimo ho migliorato quelle che erano le mie idee di programmazione e tutto quanto e da questo devo dire che mi ha dato una spinta in più per poter guardare avanti il futuro con una prospettiva migliore però devo dire che è stata un'esperienza veramente positiva dispiace averla terminata perché comunque è stata di grossissimo insegnamento sono sicuro che ci saranno altre occasioni in squadre importanti perché proseguendo così sono sicuro che arriveranno altre occasioni altre situazioni e sicuramente andrai in progressione continua speriamo io direi che è stato tutto interessantissimo è stato è stato bello sentire questa idea di progressione e questo entusiasmo nel voler sempre crescere così come devono crescere i ragazzi così come devono crescere i vari gruppi così come deve crescere il sistema calcio quindi detto questo io ti ringrazio ti saluto e ti auguro una carriera sempre migliore grazie grazie a voi ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti